In un clima di festa e semplicità, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i rappresentanti del movimento Cursillos di Cristianità, rammaricandosi per aver cambiato il giorno dell'udienza. L'infallibilità del pontefice c'è quando fa definizioni dogmatiche, ha detto scherzando tra gli applausi, ma anche il Papa ha i suoi difetti. Questo Papa è poco ordinato, indisciplinato. Rispondendo poi ad alcune domande, Papa Bergoglio ha chiesto a tutti di rimanere fedeli al proprio eucarisma, pur traducendolo nel tempo e nello spazio. Per aiutare gli altri a crescere nella fede, ha detto, occorre sperimentare in prima persona la bontà e la tenerezza di Dio, che vuole sempre incontrarci senza chiedere nulla in cambio. Pur avendo ciascuno di noi una laurea di peccatori, dobbiamo avere la certezza che il Signore ci accoglie sempre con amore. Di qui l'invito a meditare con costanza la parola, ad avvicinarsi al sacramento della riconciliazione, all'eucaristia. Per aiutare gli uomini, le donne di oggi, ha insistito il Pontefice, ci vuole pazienza senza fare proselitismo, bisogna coltivare l'amicizia e affidarsi allo Spirito Santo.